signor vito lei è uno degli ultimi vitticoltori per passione qui dell'ossola alla vigna roledo e che cosa succede succede che adesso il secondo anno che sono arrivate queste maledette la chiamano la popiglia japonica che praticamente distrugge tutta tutta la foglia della vigna e niente l'uva cioè l'uva non la tocca però mangiando la foglia si vede che tira via tutte le sostanze l'anno scorso ho provato a fare il vino fatto quasi 150 litri di vino ma tutto buttarlo via perché era imbevibile faceva un odore sgradevole e niente quest'anno cosa farà quest'anno non lo raccolgo neanche perché visto l'esperienza dell'anno scorso la lascio su sulla pianta e penso che questo inverno spianto tutto il vigneto è finito lì anche perché i prodotti per la peronospera ormai non si trovano più senza patentino non li danno più quelli per la popiglia japonica ci sono delle trappole ma funzionano sì e no e anche il diserbante per la popiglia senza patentino non ci danno più niente perciò io penso di finire lì però lei ha chiesto al sindaco di venire a vedere proprio quanto succede sì però non è venuto perché erano ferie ma penso anche se viene ormai ormai non può fare niente lei si è rivolto alle istituzioni perché sa che in altre regioni le istituzioni sono intervenute sì perché ho una nipote che abita in Toscana ha detto così che giù là la regione è intervenuta con dei droni a fare tutta la disinfestazione delle zone e questo potrebbe bastare ma potrebbe bastare secondo me qui a roledo siete rimasti in due a che abbiamo ancora altri anni hanno qualche gamba di vina ma è tutta vina selvadica americana e così che che la come si chiama la popiglia non la prende invece l'uva l'uva merlotto nebbiolo però niente è un disastro a me dispiace perché sono quasi 60 anni che che coltivo vina era una passione che ho recitato da un mio nonno da mio papà e mi dispiace